Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Francesco Chiofalo ha deciso di sottoporsi ad un delicatissimo intervento chirurgico per cambiare definitivamente il colore dei suoi occhi, facendole diventare azzurri. Non si è fatta attendere la reazione di Antonella Ferdelisi, un utente infatti dopo aver condiviso il video postato da lenticchio. L'influencer Campana ha risposto pubblicandolo con una sua immagine ai tempi della sua partecipazione al grande fratello Vip quando indossò le lenti a contatto colorate. Ma non è tutto, perché sta scoppiando un putiferio per colpa di un profilo o più profidi che a quanto pare scrivono cose o scene. Queste le parole di Antonella. È giusto comunicarvi che questo profilo prima o poi andrà in galera. Sta continuando a mandare cose bruttissime tutte fake a Mariano ma non solo. Fatevi curare. Io l'avevo bloccato e non leggevo. Siete vomitevoli e ringraziate che sono una ragazza forte che con tutte le cattivere che scrivete la gente si toglie anche la vita. Poi Antonella mette la sua email e aggiunge Mandatemi tutte le cose scene e brutte pubbliche che hanno scritto quei profili su questa email per chi le ha salvate. Fate una raccolta che domani vado a denunciare e capiamo se c'è questo salvatore dietro. Grazie a tutti. Ecco. Com'è possibile che c'è ancora gente che fa certe cose? Ora, che sia nei confronti di Antonella Fiordelisi ma anche nei confronti, chissà, di quante altre persone accade. Voi cosa ne pensate? Non ha ragione Antonella a perdere la pazienza e a procedere per altre vie? Commentate e iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati. Grazie e a presto.